Sono di Wilhelm Schall, tedesco di 64 anni, resti ritrovati ieri in Valle Cannobina in un canalone scosceso in località Punta Franzina. L'uomo era scomparso lo scorso 22 giugno nella zona del Monte Limidario, una cima di oltre 2800 metri al confine tra Italia e Svizzera. Era partito dal versante ticinese per un'escursione e poi si erano perse le sue tracce. I soccorsi si erano messi in moto anche in territorio italiano, ma senza esito. Ieri però un volontario del soccorso alpino ha scorto un corpo in avanzato stato di decomposizione in un canale. Da subito si è pensato al tedesco. Questa mattina, con base al campo sportivo di Cannobio, si sono messe in moto tutte le forze impegnate per il recupero dei resti. Squadre a piedi del soccorso alpino hanno raggiunto il luogo del ritrovamento. I resti erano impigliati tra i rami come se fossero stati trascinati a valle dalla pioggia. Il forte vento di oggi ha però complicato le cose, rendendo difficile il volo dell'elicottero della Guardia di Finanza arrivato per recuperare la salma e riportarla a valle. Alla fine è dovuto intervenire un velivelo della regua svizzera. Il corpo è quindi giunto a Cannobio, da dove è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Castelli, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non ci sono più dubbi sull'identità. In tasca aveva ancora i documenti e il cellulare. Quella di oggi è stata una giornata di lavoro molto intenso per i soccorritori in Cannobina. Da ieri sera infatti erano scattate le ricerche di un turista belga. L'uomo si era fatto accompagnare dalla moglie intorno alle 16 di ieri al ponte di Socraggio, dicendo che avrebbe voluto raggiungere Cannobio a piedi lungo il torrente. La moglie, non vedendolo rientrare, poco dopo le 21 ha dato l'allarme. Lo hanno cercato soccorso alpino civile della Guardia di Finanza e i fluviali dei Vigili del Fuoco. L'uomo è stato ritrovato questa mattina sano e salvo, anche se provato dalla notte passata arriva al torrente. Per recuperarlo sono entrati in azione i cinque componenti della neocostituita squadra di forra del soccorso alpino che si sta formando proprio in ragione della continua necessità di questo genere di soccorso che è stata perfettamente in grado di gestire l'intervento. Nel pomeriggio di oggi poi il soccorso alpino è intervenuto al Monte Giove dove una bimba tedesca di 5 anni è stata colpita dallo zoccolo di un cavallo alla testa. Anche in questo caso si è alzato in volo da Borgo Sesi all'elicottero del 118 che ha trasportato la piccola all'ospedale di Novara. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente preoccupanti.